Questa giornata di San Valentino è un po' particolare perché si cerca di spiegare ai ragazzi perché è importante vaccinarsi per l'HPV. Siamo qui oggi proprio perché vogliamo sensibilizzare i giovani, che un domani non saranno più i nostri giovani, alla vaccinazione per l'HPV che dopo tanti anni di vaccinazioni per il Covid l'HPV è stato un pochino trascurato. Queste campagne nazionali sulla vaccinazione HPV che permettono appunto di diminuire insieme alla prevenzione, quindi ai controlli di screening con il PapTest, ci permettono di prevenire quello che è il tumore della cervice uterina che fortunatamente già in questo momento non ha un'incidenza elevata come in altri paesi in via di sviluppo dove non c'è la possibilità di screening, tuttavia dobbiamo investire sulle nuove generazioni proprio perché l'infezione d'HPV avviene appunto nelle prime decadi di vita e soprattutto dopo l'inizio dell'attività sessuale, anche se non è esclusiva del contagio sessuale, per via sessuale, proprio perché è un'infezione che poi appunto sviluppa una neoplasia della cervice poi intorno ai 40-50 anni. Abbiamo tanti sistemi di protezione attraverso appunto il programma di screening, il PapTest, il DNA Test e poi procedure chirurgiche mininvasive per correggere le eventuali lesioni pretumorali ma tutto sta, alla base di tutto c'è l'infezione d'HPV. Nel 1990, nei primi anni 90, quindi ventesimo secolo, abbiamo avuto l'invenzione del vaccino contro l'HPV che significa anche un vaccino contro una neoplasia. Signore Guerri, la prevenzione passa soprattutto con il contatto con i giovani e questa giornata lo dimostri? Assolutamente sì, infatti quella di oggi è una tappa di un percorso che l'amministrazione comunale intende, è impegnata a portare avanti in città per promuovere e sostenere la conoscenza e la prevenzione in ambito sanitario, in collaborazione con la nostra azienda sanitaria locale, con le associazioni e con le altre istituzioni, in primis appunto la scuola, perché è da lì che bisogna partire per poter fare un'azione capillare, attenta, incisiva, di sensibilizzazione e educazione al tema decisivo e vitale che è appunto quello della prevenzione.